Ieri sera, la casa del grande fratello ha accolto, anche se temporaneamente, Carmen Russo Dopo la diretta, la ballerina è stata avvistata in conversazione con Enzo Paolo Turchi, mentre discutevano di interventi estetici L'atmosfera si è scaldata durante la diretta del grande fratello, quando Carmen Russo ha fatto una sorpresa a Enzo Paolo Turchi, entrando nella casa per trascorrere qualche giorno insieme La storica coppia, amata dal pubblico, ha vissuto un momento di riunione, ma non sono mancati segnali di preoccupazione tra i fan In confessionale, infatti, Enzo Paolo ha espresso il suo timore riguardo a una possibile crisi con la moglie, dicendo, prima di venire qui, ho avuto l'impressione che Carmen fosse stanca del mio comportamento, non del nostro legame Non ballo più, mi dedico solo all'insegnamento, l'ho trovata fredda e distante Se a lei non va bene avere accanto un uomo così, me ne andrò davvero Forse è colpa del troppo tempo passato insieme, ma è solo una mia sensazione Dovrò capire meglio quando sarò fuori, le dichiarazioni di Enzo Paolo hanno suscitato un grande interesse, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come evolverà la situazione tra i due Nel frattempo, dopo la fine della diretta, è emerso un momento divertente che ha catturato l'attenzione degli utenti sui social, la coppia è stata sorpresa a parlare di ritocchi estetici In un video che ha rapidamente fatto il giro della rete, Enzo Paolo ha chiesto a Carmen Ti sei rifatta le labbra? La risposta di Carmen non si è fatta attendere No, sono solo le solite cosine I fan ora si interrogano su cosa possa accadere nel futuro della coppia Riusciranno a ritrovare la loro sintonia in questi giorni trascorsi insieme? Non ci resta che attendere per scoprirlo